Salgono le proteste dei cittadini nei confronti degli aumenti delle tariffe autostradali in Veneto, in particolare nella tratta Mestre-Padova che ora costa 2,80 euro. Una situazione atipica perché la concessione di 23 anni vige nei confronti di un concessionario pubblico. La regione parla di strade gratis, promette di difendere i cittadini e chiede da tempo che la concessione venga raddoppiata per abbassare così il prezzo del pedaggio. Detto questo, dico che noi paghiamo talmente tante tasse, 21 miliardi all'anno, che ci meritiamo le strade gratis. Prima cosa. Seconda cosa, siamo una società atipica perché è una società pubblica, un concessionario pubblico, che ha una concessione di soli 22-23 anni contro i 40 anni che hanno molti. Quindi già diluendo, raddoppiando il numero degli anni, riusciamo a diluire il peso del pedaggio. Intanto da Roma il senatore Veneto Antonio De Polli chiede alla regione di smetterla di urlare contro il governo centralista e di vestire i panni del Veneto che pensa ai Veneti. E accoglie l'allarme lanciato dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova perché non vengano scaricati, su pendolari, lavoratori e autotrasportatori del nord-est, gli equilibri finanziari delle società autostradali. De Polli e il vicepresidente del gruppo del PD alla Camera, Andrea Martella, hanno presentato un'interrogazione al ministro delle infrastrutture, Maurizio Lupi, sulla vicenda legata ai rincari delle tariffe autostradali. Lupi ha proposto abbonamenti scontati per evitare che i rincari portino l'utenza a riversarsi sulle strade non a pagamento, intasando il traffico a discapito della vivibilità dei centri urbani. Secondo Zaia, il governo ha il potere di risolvere in fretta la questione. Il governo può tutto. Può decidere di darci 40 anni di concessione e quindi di fatto diluire i pedaggi. Può decidere anche di non farci pagare più le autostrade perché ci restituisce i nostri soldi e ci arrangiamo noi. Paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno, il passante è costato un miliardo. Si figura se abbiamo problemi a pagarci una strada e dalla gratis ai cittadini. Intanto i cittadini promettono battaglia. Un pendolare padovano, che spenderà in media 100 euro al mese in più, ha manifestato l'intenzione di rinunciare al telepass e di pagare i pedaggi giornalieri con monete da un centesimo per arrecare disagi alla società e al personale di servizio come forma di protesta.